Bisogna combattere l'infezione che c'è e non parlare ogni giorno di febbre come fanno tutti perché la febbre l'abbiamo da diverso tempo ma nessuno ha messo le mani sull'infezione. La riduzione delle tasse credo che sia un fatto importantissimo di mobilitazione di risorse per i consumi. Quindi credo che l'intervento forte anche sull'evasione fiscale portando i reati di evasione fiscale sul piano del penale quindi noi non condividiamo affatto la preoccupazione che ciascuno hanno sul fatto che le agenzie siano molto aggressive magari lo fossero davvero ogni giorno sarebbe non solo l'occasione per recuperare i soldi che diversamente pagherebbero di più i contribuenti onesti ma sarebbe anche un deterrente rispetto a comportamenti sleali, illegali che ci sono e tollerati da purtroppo diversi decenni. Grazie.